CASTELLO FIABESCO Ciao, mi sono d'Italia! Uh, ciao Tom, sei venuto a fare un check-up? Sì, mi fa mare la pancia! Ho dimenticato qualcosa! Tom, ma che cos'è? Oh, faccio la dieta e mangio solo i dolci! Per avere la pancia sana bisogna mangiare non solo i dolci, ma anche la frutta e la verdura! Qui abbiamo un pomodoro, l'insalata e poi il mais! Ti preparo un'insalata! Mmm, ma la verdura non è dolce! Assaggia Tom! Mmm, che bontà però! Mmm, però visto che hai fatto la dieta, ti devo dare le medicine per lo stomaco! Tom, ma dove sei? Ah, ho paura, non mi piacciono le medicine! Ma non avere paura! Sono al gusto di fragole! Oh, veramente, sono buone! Allora, come ti senti adesso? Mi sento molto bene! Grazie, dottoressa! Ciao, Tom! E non mangiare troppi dolci! Ciao, Hank! Hank? Non mi sente! Ma perché urli così forte? Sono venuto al porto! Ma non mi senti! Cosa? Devo lavarmi i denti! Un attimo! Attento! Oh, Hank, ma tu non senti niente! Fammi vedere! Le orecchie sono molto sporche! Bisogna pulirle! Però ragazzi, non si può pulire le orecchie con i cotton fioc! Bisogna lavare le orecchie! Però oggi mi servirà un attreccio speciale! Così! Opla! Hank, bisogna lavare le orecchie! Oh, ma perché urli? Io non urlo! Sei tu che senti bene adesso! Grazie, Aya! Però, non senti niente! Suona il tuo cellulare! Hai un buon orecchio, veramente! Pronto? Ciao, Aya! Sono in pericolo! Sono in un castello e non so come scendere giù! Sì, arriviamo! Hank, portami una scala! Sì, un attimo! Oh, Ginger! Aspetta un attimo! Eccomi qua! Tieni la scala! Scendi giù! Ti aspettiamo qui! Ginger! Andiamo in ospedale! Mi sento malissimo! Ma non avere paura! È solo un graffio! Ah, sì! Veramente! Posso andarmene? Aspetta! Bisogna disinfettarlo! Aya! Aya! Così! Bravo, Ginger! Grazie, Aya! Di niente, Ginger! E con voi ragazzi! Ci vediamo molto presto! Ciao, ciao!